Ciao qui Danilo Maruca di Dritto alla Meta.it e in questo video un po' diverso dal solito ti spiego quali sono gli unici due paradigmi che devi installarti per avere successo nel tuo settore Partiamo dal paradigma numero uno, cioè dalla convinzione che l'autoformazione è la chiave in quanto quando noi siamo stati a scuola ci sono state insegnate un sacco di cose ma poi nel concreto non ci sono state insegnate le cose più importanti cioè nessuno ci ha detto come diventare più felice, nessuno ci ha insegnato come diventare degli imprenditori nessuno ci ha insegnato come gestire il denaro e nessuno ci ha insegnato come rapportarci con i nostri figli o cose simili quindi tramite l'autoformazione puoi andare a sopperire a tutta la mancanza di informazioni che non ti sono state date in che modo dovresti studiare almeno un'ora al giorno ho detto almeno, non studiare un'ora al giorno dovresti studiare almeno un'ora al giorno quali contenuti dovresti studiare? principalmente due uno, tutte le tecniche di crescita personale e due, tutte le storie, le autobiografie delle persone di successo perché? nei libri di crescita personale puoi andare a prendere una serie di tecniche, strategie, consigli utili che possono veramente cambiarti la vita nelle autobiografie delle persone di successo invece puoi installarti grazie a questi contenuti la convinzione che se loro ce l'hanno fatta ce la puoi fare anche tu e magari loro sono partiti da zero magari anche tu parti da zero e quindi puoi tranquillamente installarti la convinzione che anche tu puoi farcela adesso in quest'ora che vai a dedicare alla tua autoformazione che cosa dovresti fare? dovresti, punto primo, cercare nuove informazioni quindi leggere libri, guardare video, ascoltare podcast o cercare di mettere le mano su qualunque tipo di contenuto possa in qualche modo migliorarti e poi la seconda cosa che devi fare è utilizzare la ripetizione quindi vai ad ascoltare centinaia e centinaia di volte gli stessi video centinaia e centinaia di volte gli stessi audio vai a utilizzare la ripetizione per passare determinati concetti dalla tua mente conscia alla mente inconscia quindi questa è la prima cosa che devi fare convincerti che l'autoformazione è la chiave mentre la seconda convinzione che devi installarti è che le persone sono stupide e tu non devi prendere consigli da loro troppe volte vedo dei giovani che hanno delle grandi idee però non le mettono in pratica perché delle persone vicino a loro che non hanno mai fatto ciò che loro vogliono fare gli hanno detto che non si può fare allora tu devi allontanare le persone negative dalla tua vita perché altrimenti non vai molto lontano o ti isoli da queste persone o non le frequenti o comunque sia cerca una soluzione non puoi avere attorno a te delle persone costantemente negative che ti dicono che ciò che tu desideri non lo si può fare adesso perché dico che le persone sono stupide? il motivo è abbastanza semplice ti faccio un esempio quando le persone vanno da un medico non è che mettono in dubbio ciò che il medico gli dice nessuno, a meno che il medico non dica cose assurde nessuno mette in dubbio, in discussione le competenze del medico e nessuno dice io potrei fare il medico meglio di lui che ha studiato ok ma per esempio prendiamo il calcio quanti italiani hanno davvero allenato delle scuole di calcio? pochissimi però ogni singola partita che viene giocata c'è qualcuno che commenta le decisioni prese da un allenatore ma in realtà lui non ha le competenze che ha quell'allenatore lui non ha la conoscenza che ha quell'allenatore soprattutto lui non ha mai allenato quindi con quale criterio può giudicare l'operato di un allenatore? quando è l'ultima volta che hai allenato una squadra di calcio? quando è l'ultima volta che hai allenato una nazionale nei mondiali? non l'hai mai fatto bene? allora non puoi criticare chi lo fa ok questo atteggiamento mentale che porta le persone a convincersi che loro sono esperte di tutto che loro possono parlare di tutto crea enormi problemi perché poi le persone quando tu gli spieghi che cosa vuoi fare ti dicono che è impossibile che tu non potrai mai raggiungere i tuoi obiettivi perché secondo loro questa cosa non si può fare ma loro non hanno nessuna esperienza ecco perché tu non li devi ascoltare tu devi prendere consigli da quelle persone che hanno già realizzato ciò che tu desideri e tutte le altre semplicemente non le vai a considerare semplicemente quando hai un obiettivo non lo divulghi con loro non parli di quelle cose con loro per il semplice motivo che loro non ti possono capire perciò prima accetti queste due convinzioni quindi fai tu la convinzione che l'autoformazione è la chiave e punto secondo ti convinci che gli altri sono abbastanza stupidi tranne nel loro magari mestiere che poi bisogna pure valutare e vedere per bene perciò hai un obiettivo impegnati per raggiungerlo ma non chiedere opinioni a persone che non hanno mai fatto ciò che tu desideri fare e la terza convinzione che devi far tua è quella che pensare nel lungo termine è qualcosa di fantastico e meraviglioso non devi ragionare nel breve termine ma devi sempre ragionare nel lungo periodo e nel lungo termine perché ti dico questo? perché la maggior parte delle persone si pone degli obiettivi che sono a breve scadenza un conto è avere un obiettivo da qua ad un anno e comunque sia una cosa importante averlo un'altra è avere un obiettivo da qua ai prossimi 10 anni se tu sai esattamente che persona vuoi diventare e quali risultati vuoi ottenere da qua ai prossimi 10 anni ti assicuro che il tuo impegno e il tuo modo di pensare saranno totalmente diversi rispetto all'avere un obiettivo a breve termine quindi poniti gli obiettivi ambiziosi ma decidi che persona vuoi essere da qua ai prossimi 50 anni da qua ai prossimi 20, da qua ai prossimi 30 decidi quale eredità vuoi lasciare al mondo ma soprattutto decidi che cosa vuoi fare davvero della tua vita non solo che cosa vuoi fare domani o che cosa vuoi fare nella prossima settimana ma decidi che cosa vuoi fare da qua ai prossimi 80 anni decidi chi vuoi essere quando avrai magari 90 anni quindi più ti impegni per cercare di raggiungere quelli che sono i tuoi obiettivi ma questi obiettivi sono a lungo termine quindi ragioni non più con le paure che puoi avere da qua ad un anno ma ragioni in termini di devo fare determinate azioni con costanza per anni e più entri in una mentalità di serietà che ti porta poi ad ottenere davvero dei risultati perché quando tu hai un obiettivo magari da qua ai prossimi 3 mesi il tuo impegno non è totale ma ciò che davvero cambia la tua vita è il tuo impegno totale nel fare le cose quindi se ti poni degli obiettivi che sono molto ambiziosi per poterli raggiungere dovrai impegnarti per anni ti assicuro che la cosa cambia quindi fai tu queste 3 convinzioni che ti assicuro che ti aiuteranno tantissimo bene per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo ciao